Oh raga, allora è confermato domenica alle 4 per l'asta di riparazione nel boxigeppetto? Questa cosa combino, bottenga e babaga, da mesi che non li metto, adesso giuro li butto, mi compro il bra e cutrone Un pantacalcio cambia lo spirito, ne faccio 4 e mi sento in bilico, un calcio clinico, lacrime sui miei eyes Io per me non mi comai, e che schiedi nella sni, resto solo sotto sotto, non guardo più neanche i live, dai Da glas costa non gioca mai, qua gli arella non è più ok, perchè ho preso Piontek, Piontek, Piontek Ma notte lì lo venderei, lo comprei perchè quest'estate di sepunto agli europei Emre Can Paqueta, sempre in dieci ho giocato, delita Samoa, d'agosto ero il favorito, qua me mi chitaria Quest'anno ho visto di tutto, ci arrivo più che distrutto, all'asta di riparazione Grazie